Nei prossimi giorni Padova e la sua Basilica di Sant'Antonio saranno il punto di riferimento dei fedeli cingalesi che arriveranno in città come ogni anno per celebrare il santo amatissimo anche in Sri Lanka. C'è un legame profondo tra i frati francescani della Basilica di Sant'Antonio di Padova e la chiesa di Sant'Antonio a Colombo, una delle tre chiese devastate dalle esplosioni provocate da una serie di comando kamikaze che hanno agito in simultaneo uccidendo 350 persone ferendone più di 500. Mentre in Sri Lanka ancora non è calato l'allarme per possibili nuovi attentati, i frati si sono mobilitati e saranno il centro delle raccolte fondi per la ricostruzione della chiesa di Colombo e per l'aiuto alla comunità cristiana sotto sciocche per la barbarie subita. Un gesto istintivo quello dei frati della Basilica di Sant'Antonio di correre in aiuto alla chiesa di Sant'Antonio di Sri Lanka? C'è un rapporto affettuoso di amicizia e un legame spirituale con la chiesa sri lanchese a partire dagli anni 90 ma poi anche di recente tutta una visita che c'è stata con le reliquie del santo in quei luoghi e poi continuamente visite dell'etnia e della gente sri lanchese qui alla Basilica, il primo maggio in modo particolare o mai da anni convergono qui quindi c'è un legame molto stretto, ci è sembrato importante pregare e subito anche correre in soccorso. Avete avuto dei contatti anche telefonici con i vostri confratelli laggiù? Lì c'è una presenza di frati indiani del nostro ordine che operano in Sri Lanka e poi c'è un legame che abbiamo anche con Monsignor Neville, con gli assistenti spirituali degli sri lanchesi qui in Italia e quindi abbiamo avuto modo subito di sentire un po' la situazione e anche indirettamente di sentire il Cardinal Renjit che è il primate dello Sri Lanka che spesso viene qui e probabilmente arriverà qui anche prossimamente. Ecco una vicinanza che è solidale, che è di aiuto concreto in una situazione che si fa fatica anche solo a descrivere da quanto è orribile. Sì è anche un po' diciamo così una sorpresa per loro stessi che ha detta, io ho sentito anche l'associazione degli sri lanchesi qui a Padova, ha detta loro c'è una armonia nei confronti delle religioni che sono la maggioranza buddhisti, i buddhisti sappiamo che siamo una filosofia di tolleranza, i cristiani, i cattolici, ecco c'è una dimensione di concordia che ha un po' sorpreso con questa esplosione di terrorismo. Per quanto ci riguarda noi lì abbiamo costruito anche un centro di accoglienza per i poveri con il pane di Santo Antonio, con la carità santoniana e quindi noi comunque diamo un messaggio anche qui in Basilica già la domenica prossima di attenzione, di solidarietà, di comunione con queste chiese. Si è parlato di una ritorsione per fatti accaduti in Nuova Zelanda, non c'erano segnali lì nel paese sri lanchese di tensioni con la comunità cristiana? Lasciamo le fonti giornalistiche un po' di capire che cosa e come. Diciamo che il cardinale primate Malcolm Ranjit ha in qualche modo lamentato una scarsa attenzione sul piano della sicurezza nei confronti anche così di questi centri di culto molto frequentati nella notte di Pasqua. La cosa curiosa per certi versi è che i buddhisti che sono la maggioranza degli sri lanchesi sono i primi a pregare a Santo Antonio e chi prega a Santo Antonio non può non sentire il messaggio francescano di riconciliazione, di pace, per cui per noi è un po' sconcertante che ci sia qualcuno che invece fomenta odio, crea tensioni, aumenta i conflitti. Per noi rimane il messaggio pasquale quello dell'annuncio della pace perché questo è nel nostro DNA e continueremo a farlo.